Ciao, lui è Alberto, produttore di vino e pittore, e vi parlerà di arte e di vino. Bentornati nuovamente sul canale di Alberto. Oggi siamo col secondo quadro sul tema della religione. Questo è, diciamo, una seconda versione del quadro che avete visto domenica scorsa. Come quello ha in comune i colori scuri. E anche in questo l'unica cosa definita è l'uomo, il ragazzo, mentre lo sfondo è sempre indefinito, che cerca di creare una forma. La differenza dal precedente è questa lama, questo oggetto, che tende a spostare dall'equilibrio la persona. Perché? Perché la religione forse un po' così lo è. Buongiorno 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 Buongiorno